Ancora indignazione unanime a seguito dell'eclatante suicidio dell'imprenditore Rocco Greco, le reazioni e i commenti, l'intervento della prefettura di Caltanissetta. Il suicidio dell'imprenditore di Gela Rocco Greco, baluardo storico della ribellione della lotta al racket, solleva unanime indignazione. L'ex procuratore di Palermo e nazionale antimafia, già presidente del Senato, Piero Grasso, commenta che è una sconfitta per lo Stato, perché le norme ci sono, ci sono tante misure, bisogna mettere a disposizione le risorse. La diminuzione delle risorse su questo aspetto è un elemento da rivedere, il problema del racket e soprattutto del venire incontro attraverso l'assistenza a chi subisce. Questo è uno dei principi fondamentali di cui uno Stato si deve occupare. Rocco Greco si è sparato alla tempia il giorno dopo il no del Tarra alla sospensiva dell'interdittiva antimafia a suo carico, in attesa del giudizio di merito. E il figlio Francesco ribadisce, mio padre è stato ucciso da una giustizia ingiusta e superficiale, perché nessuno ha mai letto i nostri ricorsi. Se non sei nella white list, non lavori più. Di colpo mio padre si è trovato da cittadino coraggioso, che aveva denunciato, fatto arrestare e condannare 11 esponenti del racket, a imprenditore senza appalti, costretto a licenziare i suoi 50 dipendenti e chiudere i cantieri. In due mesi mio padre perse 25 contratti e la stima dei fornitori che ci guardavano come se avessimo un marchio in effronte. La raffineria dell'Eni ci ha cacciati fuori, costringendoci a smantellare le cantiere di sabato e di domenica. E poi le parole di Magda Scalisi, battagliera giovane imprenditrice che ha denunciato la mafia dei Nebrodi, sono... Purtroppo, e ripeto, purtroppo. Capisco il gesto estremo di Rocco Greco. Io maledico il giorno in cui ho denunciato. Dovevo mollare tutto e scappare, ed invece ho commesso il grande errore di restare. Quando denunci, firmi anche la tua condanna a morte. Se avessi saputo quello che poi mi è accaduto, non l'avrei mai fatto. Posso dire di avere scoperto che nei Nebrodi non esiste la mafia. Che l'aggrigentino Ignazio Cutrò, imprenditore di Bivona, testimone di giustizia e presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, rilancia la morte dell'imprenditore antiracket Rocco Greco, getta un'ombra su come le nostre istituzioni hanno inteso e intendono sostenere gli imprenditori che resistono alle mafie. Rocco Greco ha avuto il coraggio civile di interrompere in un territorio come quello di Gela, devastato dalla violenza e dalla prepotenza della stigia e di cosa nostra l'odiosa catena del pagamento del pizzo. Il suo coraggio e la sua dignità di padre e di imprenditore ha dovuto dapprima subire l'onta delle accuse dei suoi carnefici, poi dimostratesi false, per poi vedersi negare dallo Stato quel doveroso sostegno che si deve a coloro che denunciano le mafie. E la prefettura di Caltanissetta ha diffuso un intervento precisando che Rocco Greco è stato assolto in primo grado dal tribunale dalle imputazioni di condiscendenza alla mafia risalenti agli anni tra il 90 e il 96. La procura generale ha presentato appello ancora da svolgersi e con prima udienza il prossimo 3 aprile. E il TAR nel frattempo ha negato la sospensione dell'interdittiva. Commento io se me lo si consente. L'interdittiva antimafia spezza le gambe se non la vita ad un imprenditore, come è accaduto a Rocco Greco e a tanti altri. E se l'interdittiva è inflitta ancora prima che si concluda un processo connesso, ovvero molto prima che intervenga una sentenza definitiva in Cassazione, allora l'interdittiva è una grave ingiustizia che provoca un altrettanto grave cortocircuito dell'assetto costituzionale del Paese Italia, fondato sulla presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. E se poi tra tre o quattro anni la Cassazione, come il tribunale, avesse assolto Rocco Greco, come risarcirlo dell'enorme danno subito nel frattempo, sempre se fosse stato ancora vivo? Mafia 1, Stato 0 e palla al centro.